allora ciao a tutti ragazzi eccoci stavolta non c'è il vento nell'ultimo video c'era il vento ad amsterdam faccio questo video per fare delle precisazioni in quanto poi alla fine dei due giorni di vacanza ho fatto delle riflessioni che volevo condividere con voi allora innanzitutto discorso olanda amsterdam ragazzi è una città fantastica io sono andato là è stata diciamo così davvero una bella esperienza ho conosciuto un paio di ragazzi olandesi e così mi sono divertito anch'io e vabbè dicevo gli olandesi prima cosa come sono secondo me questo è il mio parere dappertutto chiaramente ci sono le persone brave cattive così via però sinceramente secondo me in generale gli olandesi sono davvero molto gentili molto accoglienti e anche se avete un problema chiedete in giro cioè sono tutti davvero molto molto tranquilli molto gentili seconda cosa sull'olanda quello che ho detto dei prezzi è vero amsterdam ha dei prezzi soprattutto per gli hotel e per i parcheggi un po' alti però sinceramente vale tutti i soldi che spendete perché ragazzi amsterdam è fantastica io ho trovato una città molto pulita ho trovato una città cosmopolita piena davvero di cose da vedere ragazzi piena di cose da vedere inoltre oltre al fatto che ci sono tante cose da vedere ad amsterdam quello che mi ha colpito è per una città così grande la pulizia la pulizia delle strade la pulizia cioè davvero pulitissima è vero la città delle bici si usano tantissimo e ora volevo fare una precisazione sullo standard perché ho parlato con un infermiere in olanda che ho conosciuto ne abbiamo parlato così via è vero che i prezzi sono più alti della germania però ragazzi comunque lo standard di vita in olanda è tra i più alti al mondo tra i più alti al mondo in quanto innanzitutto lo vedete già dalle infrastrutture è tutto nuovo cioè voi andate in olanda è davvero tutto nuovo sull'autostrada non c'è una lavoro in corso così via perché non c'è neanche c'è poco da fare perché è tutto relativamente fatto da poco tempo sarà anche più facile rispetto magari alla germania perché è più piccola l'olanda da gestire così via però ragazzi è cioè si vede davvero che di capitali ne girano tante industrie e marchi di tutto il mondo una realtà davvero bella da visitare inoltre oltre a questo gli stipendi comunque ragazzi sono abbastanza appropriati allo stile di vita basti pensare che un infermiere può guadagnare comunque fino dai 2700 ai 3500 euro brutti che non è male che non è male ora non so poi gli affitti delle case così immagino che ad amsterdam costino molto immagino che invece fuori molto meno però comunque ragazzi vi dico l'olanda secondo me se avete voglia di trasferirvi è davvero una nazione che può darvi molto molto poi proprio per lo stile che hanno gli olandesi di così libero così in cui è importante mi spiegava lui il fatto di non avere stress il fatto di di come ti senti di non essere discriminato e così via e non sono comunque cose da poco infatti voi lo vedete anche in olanda tanti stranieri guidano macchine che davvero secondo me come giustizia sociale l'olanda è messa molto molto bene sarà anche magari che lo sapete sono stati un popolo di navigatori sono un popolo sempre è stato molto intraprendente così via però in quanto giustizia sociale secondo me parità nell'opportunità e così via molto molto alta ora paragonarla con la germania anche poco senso perché sono due realtà diverse dipende dal lavoro così via posso dirvi che sicuramente in germania lo standard credo sia un pochino meglio per via dei prezzi la benzina come dicevo nell'altro video 1,35 in germania 1,50-60 in olanda in autostrada 1,75 nei prezzi delle cose sono un po meno care in germania gli stipendi comunque abbiamo detto sono lì quindi direi che come standard un po meglio la germania però credo che comunque anche l'olanda si difenda molto molto bene e secondo me la qualità di vita è molto alta questo per quanto riguarda i chiarimenti sull'olanda se avete domande scrivetemele sotto sia relativa alla germania relativa all'olanda e così via io vivendo vicino al confine posso dire che conosco abbastanza bene la situazione in olanda e vi dico andate a visitarla e sono sicuro che vi piacerà molto niente vi saluto ragazzi e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.